Acero e vite, arte e vino, questo è il nuovo allestimento della rotatoria di Via dei Mori a Camuscia. Abbiamo fatto una manifestazione di interesse per adottare questa rotatoria che peraltro è stata inaugurata mesi fa e appunto il progetto che ha vinto è il progetto del Consorzio Vini Cortona d'Ocche. Ringraziamo il Presidente e tutto lo staff perché abbiamo davvero un buon rapporto con tutto il Consorzio ma soprattutto il prodotto del vino Sirà a Cortona sta portando come ambasciatore nel mondo il nome della città etrusca a livello internazionale. Presto anche altre rotatorie avranno la possibilità di essere adottate ed abbellite. Questo deve essere soltanto un inizio, come amministrazione ci impegniamo a andare a migliorare mettendo in evidenza e in risalto tutte le caratteristiche che si trovano nel nostro territorio perché sono il punto di arrivo, le rotatorie dei territori che vengono conosciuti dai turisti a livello internazionale. E proprio l'anoturismo sta crescendo e Cortona è già pronta per la prossima edizione di Chianina e Sirà, il secondo fine settimana di febbraio. Questo vitigno ormai sta diventando un ambasciatore incredibile del nostro territorio, ci viene riconosciuto ormai come enclave di questo vitigno. Sta diventando proprio il riconoscimento, la possibilità di dare un vino così originale, così personale e così caratterizzato dalle nostre campagne, dai nostri climi, a tal punto che poi ormai Cortona è riconosciuta nel mondo del vino come la capitale italiana di questo vitigno.